SEAC ancora un giorno di presidio per i lavoratori del trasporto pubblico urbano di Campobasso in attesa del 24 febbraio, quando invece ci sarà lo sciopero che quasi certamente creerà non pochi disagi a chi si muove con i mezzi, in particolare a studenti e lavoratori. Ma i disagi straordinari di una giornata di sciopero potrebbero essere soltanto un assaggio di quello che rischia di diventare un fatto ordinario se la situazione dei tagli al settore non verrà risolta. Dieci persone andranno via, dieci autisti, dieci padri di famiglia e in più automaticamente le corse diminuiranno del 30% e servizi minimi, con la vecchia finanziaria sono stati portati servizi minimi, sicuramente scenderemo al di sotto dei servizi minimi e quindi l'utenza dovrà andare a piedi. La situazione dunque è drammatica, il 22 è atteso il verdetto del TAR su un ricorso inoltrato dalla SEAC, verdetto che potrebbe diradare incertezze e dubbi e segnare il percorso per soluzioni alternative a quelle paventate finora. Poi l'appuntamento del 24 con lo sciopero, certo è che finora i tavoli concertati con rappresentanti e denti istituzionali non hanno sortito alcun effetto. Già abbiamo dei servizi minimi sulle contrade, anzi la domenica no, non abbiamo servizi sulle contrade, quindi con questo taglio sicuramente saranno tagliate un sacco di corse sia durante la giornata e la domenica si ridurrà drasticamente secondo me. Grazie. Grazie.